Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi, e con grandissima soddisfazione, consentitemelo, comunico l'inizio della collaborazione con MS Edizioni che mi hanno mandato diversi prodotti qua davanti dal loro catalogo intero da recensire e penso che MS Edizioni non abbia bisogno di nessun tipo di presentazione perché sono editori di giochi da tavolo stupendi sia del passato che anche dell'attuale catalogo vi potete citare direttamente Western Legends o fra i miei dungeon crawler preferiti come ad esempio Dungeon Saga e Star Saga che non vi ho nascosto dopo Iroquist essere i miei giochi dungeon crawler veramente preferiti e non solo, giochi di ruolo e anche libro game e infatti con l'ultima spedizione mi hanno mandato un po' di bellissima roba che sono il libro game La Fortezza di Alamut tra l'altro una ristampa di un vecchissimo libro game della nostra infanzia che hanno ripresentato a Luca Comics and Games ha venduto veramente da morire e ci vede nei panni di un cavaliere templare ed è veramente di una bellezza assurda ma sarà materiale per un prossimo video poi questo che è il materiale di oggi ve lo faccio vedere dopo come avete visto dalla copertina mi hanno mandato il manuale delle regole base di Root che Root ricordate essere un gioco da tavolo che ho portato sul canale dove praticamente queste bande del bosco per tutte le tappe grandi e per piccini fanno battaglia contro la Marchesa dei Gatti e è un gioco veramente carino, logistico e soprattutto di battaglie in questa foresta dove dovremo andare a conquistare magari territori occupati da altre bande e ne hanno fatto direttamente il gioco di ruolo che è veramente bellino da morire e il gioco di cui parlo oggi è For Against Darkness che vedete qui davanti che è un titolo che MS Edizioni ha portato in Italia ed è un gioco veramente molto interessante perché non è un board game è un gioco di ruolo ma un gioco di ruolo molto veloce che potete giocare in due modi o lo giocate in... anzi in tre a dirla tutta o lo giocate in solitaria quindi un gioco di ruolo alla Dungeons & Dragons prima edizione tranquillamente mi sento di poterlo dire che potete giocare in solo usando quattro eroi potete giocarla in cooperativo magari usando due eroi a testa o magari facendo anche un gruppo più grande perché niente vi vieta di fare un gruppo di sei personaggi e la terza cosa che secondo me è anche quella più bella ci sono anche le regole per farlo diventare un gioco di ruolo vero e proprio light con tanto di Dungeon Master e narratore perché questo gioco non ha bisogno di Dungeon Master ma sarete voi a creare l'avventura tirando i dadi da sei che sono praticamente gli unici dadi del gioco e leggendo appunto le regole per vedere quale tile del Dungeon dovrete andare ad incastrare e a disegnare sulla vostra mappa di gioco ve ne parlo a breve dopo la sigla Fora Games Darkness in questa edizione che vedete qui davanti molto curata a cura di MS edizioni è come detto appunto poc'anzi un gioco di ruolo light perché noi in questo gioco potremo io oggi vi descrivo più o meno la modalità in solitaria noi saremmo chiamati ad andare ad interpretare un gruppo di eroi che vanno a visitare un Dungeon qui si parla per la maggior parte di Dungeon sicuramente in future espansioni ci saranno anche zone esterne ma più che altro qui si parla di Dungeon classico Dungeon vado avanti, corridoio, trovo varie stanze boss finale, arraffa il tesore e scappa D&D prima edizione, prima dell'Advanced per farvi capire e il gruppo sarà sempre formato dal guerriero magari sarà formato dal nano rimanda molto a D&D scatola rossa, scatola blu prima edizione perché vi ricordate prima dell'Advanced non c'era la diversificazione razza-classe nano-guerriero, nano-chierico oppure non lo so, umano-ladro, umano-barbaro no, c'era il guerriero che era una razza, una classe il barbaro e il nano come buon hero questo insegna il nano era il nano non era, sì, si dava per scontato che fosse il nano-guerriero però il nano era il nano, l'elfo era l'elfo e così via infatti qua dentro trovate il nano, l'elfo il barbaro, il mago lo scassinatore che poi sarebbe il ladro ed è veramente molto interessante perché poi il regolamento è molto 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 semplice e si basa tutto quanto sul tiro di uno o più di sei praticamente voi andate all'inizio a creare il vostro personaggio che vedete come nella tabella dei personaggi mostra ciascun personaggio ha la sua pagina con le sue abilità e tutto come vedete nel corso del video ha le sue caratteristiche ed ha le sue peculiarità come ad esempio i punti ferita e le abilità speciali ad esempio il barbaro classico a tipo lira l'attacco furioso come si è visto anche in D&D e il gioco viene risolto tutto dal tiro di un D6 ciascuna creatura o gruppo di creature che poi si dividono in mostri minori e mostri maggiori i mostri minori sono i mostri vaganti quelli che trovate nel dungeon l'ammazzo vi danno punti esperienza mostri maggiori mini boss o boss tipo drago guerrieri del caos e cose del genere il combattimento semplicemente si va a fare il tiro di un D6 ci si somma il livello del personaggio ma non di tutte le classi perché tipo il barbaro ogni livello aggiunge più uno al tiro però ad esempio se non erro il mago aggiunge metà del suo livello in corpo a corpo ovviamente se lancio un incantesimo o no metà del suo livello e se non erro anche il chierico però dimezzato per difetto quindi un mago di terzo aggiungerà soltanto più uno un mago di quarto aggiungerà più due quindi si va a fare il tiro magari in questo caso ho fatto tre facciamo conto che il barbaro il mio barbaro è di livello due tre più due ho fatto cinque la difficoltà o meglio il livello per colpire il goblin era quattro l'ho colpito e l'ho ucciso tutti i mostri minori hanno una ferita a parte regole speciali tutti i mostri maggiori hanno magari cinque sei anche dieci ferite nel caso del drago quando invece bisogna quando bisogna attaccare una creatura dovete fare il suo livello o più quando dovete difendervi dall'attacco di un mostro dovete fare più del suo livello quindi se il goblin nel livello 4 ci attacca noi per parare il colpo dobbiamo fare cinque o più perché col 4 che è il suo livello non basterebbe poi bene o male ci sono altre regole però il succo della questione è questo anche perché non ha 300.000 regole dndi terza edizione questo è un gioco da fare veloce e da portare avanti mano a mano che esplorate andate a tirare sempre il solito dado da 6 o nel caso 2 il d66 decine e unità magari è venuto fuori 22 andate a vedere sulla mappa 22 cos'è è questo tipo di tile quindi a fine corridoio ci sarà una stanza oppure il corridoio prosegue oppure si va a dipanare in varie direzioni nel caso di un incrocio ed è molto bello perché quando andate a generare una stanza andate a tirare per vedere se c'ha dei tesori andate a tirare per generare mostri e soprattutto andate a tirare anche nei corridoi ogni volta che vi spostate per vedere magari l'attacco di un mostro errante quindi sembra questo gioco 4 against darkness sembra il classico dnd premedizione fuso a un hero quest ed è veramente molto interessante perché poi banale dirvi che è un old school al 100% lo si vede cioè si vede e se ne vince veramente anche dei disegni che ci sono dentro perché sono veramente spettacolari e molto anni 80 ad esempio fa molto anche Stranger Things un manuale del genere e è molto 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 semplice lo scopo del gioco è quello di fare il dungeon trovare il boss ucciderlo arraffare il tesoro e tornare verso l'uscita perché anche sconfitto il boss mano a mano che disegnerete il vostro dungeon sulla mappa dovrete poi scappare e andare all'uscita col tesoro però magari per ogni stanza che passerete e ogni corridoio che passerete dovrete rifare un tiro per vedere se dei mostri erranti vi attaccano durante il tragitto e niente vi vieta se volete provare qualcosa di più anche metterci nel mezzo un dungeon master perché ci sono le regole in 4 against darkness per giocarlo con tanto di dungeon master in conclusione questo 4 against darkness è veramente molto interessante ed è un gioco di ruolo per tutti per me per i giocatori navigati che vogliono qualcosa di più veloce o anche per colore le prime armi senza esagerare è il classico gioco che si porta anche l'estate al mare o al campeggio perché lette due regole foglio di carta due o tre dadi da sei matita e gomma basta nel foglio di carta disegnate l'ordine di gioco come avete messo gli avventurieri e le stanze e questo libretto qui pronti giocate e fate un'avventura senza portare manuali schede e cose strane non c'è nemmeno bisogno praticamente giocate con quello che avete qua dentro quindi è un gioco veramente molto interessante veloce alla portata di tutti e io ancora una volta ringrazio MS Edizioni per avermi offerto questa coppia in omaggio spero che avremo modo di collaborare anche per altre uscite in futuro e ragazzi è un titolo passato a pieni voti non è il gioco di ruolo della vita non è non fa nemmeno le scarpe è un D&D 5 edizione ma perché non lo vuole fare avrebbe potuto anche farlo ma è un gioco di ruolo piccolo veloce alla portata di tutti e qui davvero ci potete mettere il cuginetto di 6 anni a fare una partita anzi perché magari allena la mente col fatto guarda questa è la mappa che abbiamo scoperto e magari il bambino la deve anche andare a disegnare a riprodurre quindi ha anche un contenuto secondo me decisamente educativo ed è veramente bello bello evocativo di un fantasy di anni che ormai non ci sono più ma che stanno tornando veramente alla ribalta secondo me e forse anche più di prima con serie Stranger Things e cose del genere che anzi io ringrazio e ne sono contento si torna a giocare di ruolo quindi fatemi sapere cosa ne pensate se lo volete ordinare primo link in descrizione dal sito della MS Edizioni e nel link in descrizione trovate anche il mio codice discount per avere uno sconto del 10% quindi se usate il codice Coridan10 avete uno sconto del 10% direttamente sul sito della MS Edizioni banale dirvi che se il gioco avesse già una promozione è in sconto del 50% esagero non funzionerà il codice discount quindi soltanto a prezzo pieno potete usarlo per avere uno sconto del 10% fatemi sapere cosa ne pensate e secondo me per gli amanti del fantasy e dei giochi di ruolo è perfetto ciao ragazzi alla prossima ciao